... Premiazione, 200 dorsi esordienti a maschili, consegnare medaglia Alessandro Elice, delegato provinciale di Treviso, Comitato Regionale Veneto, Federazione Italiana Nuoto, medaglia di bronzo, Andrea Atanzi, Ginnasium Pordenone, 2,36,90, medaglia d'argento, Nicola Rosso, stile libero, 2,31,85, medaglia d'oro, gold medal, goes to Elian Etan Dredged, 2,25,96. Presentazione prima serie, 200 dorsi assoluti alla partenza, alla 1 Olivia Talli, alla 2 Lucrezia Dell'Antone, alla 3 Megan Talli, alla 4 Katalin Burian, alla 5 Arianna Pessina, alla 7 Zoe Massetti, alla 8 Iemma Talli. Applausi 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 Anna De Fea in testa ai 150 metri 36,63 Deborah Bernardi 37,19 Giorgia Dall'Antonia 37,92 Anna De Fea Dall'Antonia 2,27 e 10 la partenza la prima serie record della manifestazione 2,27